Ingegnere, cosa cambia oggi con la banca dati sulle macerie pubbliche? Cambia la possibilità di controllare da parte di tutti. Tutti possono sapere qual è la situazione momento per momento e confrontare le notizie che ricevono con i dati reali. Quindi un'informazione puntuale, dettagliata e aggiornata. Secondo me non è un passo molto importante e questo ci stimolerà a lavorare ancora meglio perché sappiamo che possiamo essere visti da tutti, non soltanto dai cittadini che sono vicini ai cantieri ma da chiunque si collega a internet. Ci spiega in cosa consiste esattamente? Consiste in un sistema che rende visibile a qualsiasi utente collegato a internet i dati reali relativi alla movimentazione dei macerie. Quindi dove stiamo rimuovendo, con quali mezzi lo stiamo facendo, quanto stiamo rimuovendo e dove stiamo depositando questo materiale. Quindi un cruscotto che effettivamente descrive la situazione istante per istante. Grazie.